Buongiorno dottore, di cosa si occupa? Sono Gloria Battista, esercito la libera professione di biologa nutrizionista. Mi occupo di educazione alimentare. Elaboro piano alimentari personalizzati adeguati per tutta l'utenza in condizioni sia fisiologiche che patologiche accertate dal medico. In questi video parleremo di buone abitudini alimentari da adottare durante le varie fasi della vita, dall'infanzia all'età adulta, facendo le opportune distinzioni tra uomo e donna in base anche all'attività svolta e affronteremo anche le varie problematiche nutrizionali.